Buongiorno Io potremmo una sostituzione Questo è un carattere di un giro In città c'è movimento, ci sono le lusiche, la c'è, c'è la musica, mentre la sole si truotano, un'unica reggione, e poi ci sono i mestieri, si guadagno un sacco di storie, ci sono i professori, serva di me Cosa vuol dire? Che vi faccio da solo? Non devi niente a farti da solo, ti fa male, poi ti vedo che non ti fai male Non devi niente a farti da solo? Che è il nostro organico? Non puoi? E non puoi? Il mio corpo è un po' di mandato Signor Dante Il nostro percorrere salle non ci sono assurdo questa siquerita Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!